ciao bentornato sul canale di stats for bets nel video di oggi continuiamo lo studio della serie a ci mancano le partite della domenica e poi il posticipo del lunedì quindi andiamo a vederci qualcosa di interessante visto che il primo video se tante volte te lo sei perso è già uscito ci ha portato a tutte partite piuttosto complicate da analizzare vediamo se in quelle della domenica ci sono esiti che ci consentono un po più di facilità nello studio e nell'analisi prima di cominciare ricordati di seguirmi e di lasciare un like al video per supportare la crescita del canale allora abbiamo studiato fino a fiorentina frotinone che abbiamo visto proprio come ultimo match dicendo attenzione perché qui sembra troppo favorita la fiorentina ma il periodo di tutte e due racconta qualcosa di diverso sono tutte e due un pochino più in crisi tra virgolette dei risultati quindi questa va sicuramente rianalizzata la domenica stessa invece cominciamo a vedere bologna lecce il bologna sta vivendo veramente una super stagione e ha ribaltato il sassuolo in un momento in cui sembrava leggermente difficile come vittoria invece l'ha vinta e ha ottenuto un grande un grande risultato la situazione per quello che mi posso ricordare era molto simile c'era un favoritismo non eclatante sul bologna e la formula 4 quindi quindi quella metrica che ci porta al gol della squadra sfavorita sul sassuolo vediamo se anche o e le quote era proprio questa era intorno 1 e 73 come come situazione 1 e 75 non ricordo esattamente tutto ma ricordo che c'erano delle similitudini qui il bologna rivince una partita dopo un piccolo periodo negativo però abbiamo detto piccolo periodo negativo e se sta in classifica quindi cioè se il bologna non c'è al piccolo periodo negativo stava a giocarsi a non lo so col milan per il terzo posto quindi non si può parlare certo di stagione negativa o di periodo negativo ci stanno dei momenti in cui magari ti riesce meno bene qualcosa questa sconfitta col cagliari la sconfitta più eclatante era stata quella con l'udinese ma è una stagione di un super bologna contro un lecce anche questo ne ho parlato nel video precedente possiamo considerare lecce frosinone semi salve nel senso che se continuano a fare i punti che possono fare raccimolare punti qui e lì sono quasi fuori dalla lotta salvezza perché comunque ci hanno un buon margine cinque punti quattro punti se allentano un po la presa è un attimo che ti ritrovi completamente imbischiato sicuramente sono salve dal monza in su però queste due stanno ancora nell'ottica del nì in questo momento è quasi salvo però certo un punto contro il bologna non lo butterebbe via certo è che il lecce finora in trasferta ha raccimolato solo pareggi e in casa il bologna quasi solo vittorie cioè delle nove vittorie totali che ha fatto otto sono in casa nelle ultime cinque quattro vittorie sono state fatte in casa per il bologna quindi è veramente predominante quello che fa il bologna in casa è quello che non fa il bologna il lecce in trasferta nelle ultime cinque trasferte ne ha perse quattro pareggia abbastanza perché comunque 55 punti strappati lontano da lecce non sono pochi e se li sommiamo al resto cinque vittorie quattro pareggi è quello lì che è quello che intendo quando dico strappi quei punticini quelli che ti servono quindi al massimo al massimo io attribuirei una 1x per stare più cautelati ma questo 2 quindi questa possibilità di vittorie le lecce a 16 per cento praticamente è una statistica troppo bassa se si verifica non è statisticamente studiabile è statisticamente presente perché ovviamente non c'è uno zero per cento ma non è una cosa che possiamo capire diversamente quindi se si vuole essere cautelati 1x se si vuole continuare a dare fiducia al bologna 1 secco qui invece la situazione è diversa sul monza perché il monza è tra quelle che effettivamente ormai sono salve cioè il monza e il genoa per rientrare nella lotta a retrocessione devono veramente smettere di andare in campo può facendo pochi punticini ancora considerarsi praticamente salva mentre il verona ovviamente sta in piena lotta ha cambiato 250 giocatori quindi diventa difficile analizzare il verona dopo il calciomercato perché ha veramente rivoluzionato la squadra basti pensare che il capitano del verona il primo che era faraoni è andato a firenze il secondo che era giuric è andato a monza cioè già i due capitani principali sono andati via quindi è molto complicato la quota è piuttosto alta a 2 05 in questo momento sarebbe una value bet del 5 per cento perché la quota reale al librata del del monza dovrebbe essere a 1,95 il bookmaker ce l'alza a 2,5 quindi in questo momento sarebbe una piccola value bet il problema qual è è che l'apertura non è favorevole l'apertura era 1,91 e si alza non è mai un segnale troppo positivo quando si alzano tutte e due cioè se l'apertura era 2,05 e qui era 2,05 quindi c'era la value bet sin da subito è più accettabile è più è più positivo quando si parte da una quota più bassa e la continuano ad alzare il bookmaker non è che ci regala i punti percentuali quindi non avrebbe un significato questo rialzo se non che l'esito diventa più complicato quindi per come la intendo io sarebbe da cautelarsi con una 1 x non andrei sull'uno secco non so se il verona potrebbe segnare un gol adesso lo vediamo la probabilità statistica del gol del verona non è particolarmente alta 63 per cento considerate la semplice statistica di un solo gol di fare gol per me diventa studiabile almeno dal dal 70 per cento in su 67 68 70 63 in una squadra che per di più sta lottando per retrocedere e andiamo a vedere fa 0 75 gol è ovvio che uno può segnare anche tirando col portiere e segna però non è una squadra che ti fa pensare al gol se devo pensare a un gol ecco penso al gol casa che mi conferma la la 1 x con possibilità di vittoria del monza se la quota non continua a salire troppo genoa atalanta anche questa è una bella partita perché l'atalanta viene da un grande momento quattro vittorie un pareggio ma il genoa quest'anno e sono contento perché io non so per quale motivo da bambino amavo la maglia della sampdoria e del genoa quindi per me entrambe hanno un senso di affetto i giocatori che ho amato di più quando ero piccolo uno in assoluto era thomas scuravi che era l'attaccante del genoa quindi sono contento di vederla finalmente nella posizione di classifica che non è più quella degli anni in cui ha sempre mezzo rischiato di retrocedere e poi era proprio effettivamente un brutto genoa qui è un bel genoa che va ad affrontare una atalanta complicata quindi è giusto favorire l'atalanta è giusto metterla sulla x2 però non è un genoa che diamo per per spacciato come vediamo ritornando al discorso precedente delle statistiche il gol dell'atalanta che non è così probabile perché comunque il genoa ha un'ottima difesa però va dal 70 in su quindi ci sta la x2 ci sta il fatto dell'atalanta segni il genoa sta in quel range proprio questa partita sembra fatta apposta ma vi assicuro che non l'avevo aperta prima quando ho dato quelle percentuali qui sta nel range del sì no possibile il gol del genoa quindi la x2 è realmente la combinazione completa di questa partita e se andiamo a vedere poi nel dettaglio i gol fatti i gol subiti eccetera ci rendiamo conto di quanto questo sia così l'atalanta segna 1.82 e 1.30 in trasferta il genoa un golletto te lo regala sempre ma un golletto lo fa anche e l'atalanta te lo regala anche 1.40 quindi ci sta proprio tutto quello che abbiamo visto con questa possibilità della x2 un multigol 1.3 come suggerisce l'intelligenza artificiale mi sembra congruo almeno un gol da una partita del genere me lo aspetto però diciamo che la metterei sulla x2 sarei più sorpreso nonostante l'ottima stagione che vincesse il genoa questo devo essere devo essere onesto milan napoli milan napoli il napoli la cosa interessante è che finalmente de laurentis ha detto che ha fatto una cazzata a fanda via spalletti finalmente l'ha detto io l'ho detto il giorno dopo che è successo chiedo scusa adesso l'ha detto anche l'ha detto anche il buon aurelio il napoli nonostante tutte le tribolazioni l'assenza di osimen per la coppa d'africa il pessimo inizio il fatto che mazzarri non è che ci aspettavamo guardiola comunque sta qua comunque sta in lotta per il quarto posto il milan il suo posto champions se l'è quasi assicurato perché c'ha dieci punti di vantaggio quindi diciamo abbastanza sicuro il napoli nell'ultimo periodo dei risultati li ha ottenuti faticchiando perché qua 0-0 col monza perdi male col torino vinci all'ultimo secondo con la serenitana pure col verona l'hai dovuta ribaltare insomma è un napoli che soffre che sa soffrire contro un milan che però pure lui sa soffrire cioè ribaltato due due partite da 2 a 1 a 3 a 2 abbastanza clamorose qui è stato ripreso solo al novantesimo la roma vecchia roma di murignola strapazzata quindi insomma è un buon milan inutile nasconderci dietro un dito non lo so sull'uno secco onestamente perché 49 per cento significa che la x2 anche se di un pelo c'ha una probabilità leggermente più alta quindi non c'è una statistica che ti fa dire ok spingi sull'esito 1 però non sarei neanche così sorpreso non sarei sorpreso né guarda i risultati esatti mi piacciono forse proprio perché il concetto è un po questo non sarei sorpreso se vince il milan non sarei sorpreso se il napoli gli strappa un punto l'unica vera cosa che non si veri che non si verifica nei numeri che non troviamo nei numeri è la vittoria del napoli 22 22 troppo poco per immaginarci un una vittoria del napoli se dobbiamo andare a rischiare cioè che uno cerca il contro statistico può andare sulla x2 ma secondo me o uno perché per chi spinge sull'acceleratore oppure uno x ovviamente ricordiamoci sempre che la partita c'è domenica quindi mancano ancora due giorni per vedere variare le quote variare gli allibramenti io faccio sempre video due giorni prima tre giorni prima quindi questa andrebbe ristudiata il giorno stesso ad oggi la metterei così poi se il giorno stesso questa quota diventa 2 e 20 o 1 e 60 è ovvio che cambierebbero le valutazioni chiudiamo infine con juventus inter mentre bologna fiorentina è un recupero che non ha senso studiare considerando che devono giocare ancora in questa in questa giornata bologna fiorentina qui c'è poco da dire c'è poco da dire perché per me è un uno secco è vero che juventus ha un pochino perso aderenza all'inter con questi due risultati e l'inter mancandogli una partita da recuperare sta potenzialmente a 60 quindi sta più 7 mentre udinese è in piena corsa retrocessione quindi avrebbe bisogno proprio come l'aria di fare punti però juventus sudinese ragazzi con questi dati 61 67 a 1 e 44 sì c'è questo piccolo rialzo da a 1 33 a 1 e 44 ma a meno che questa quota non sfora l'1 e 50 1 e 55 cioè questo rialzo mi sta bene 1 e 33 1 e 44 mi sta bene poi ovvio se diventa 1 e 60 beh allora dico non lo so cioè c'è da rivalutarlo anche questo però questa si gioca addirittura lunedì quindi sarebbe ancora ancora più da dover attendere per l'esito ma in questo momento questo frangente di rialzo è semplicemente un riscontro di quello che succede sul mercato niente di più per come studio io niente di preoccupante diverso se da 1 e 33 diventa 1 e 55 1 e 60 allora la dico beh aspetta che sta succedendo perché c'è un rialzo così evidente in questo momento non è così evidente quindi per me questa la vince la juventus per questo video è tutto se ti è piaciuto come sempre lascia un like ci vediamo nel prossimo video